Adesso passeremo agli Oscar, prima cominceremo con la regia generale, con Punti 81, Compagnia Brivido. Premi alla madrina. Grazie. Adesso il secondo Oscar per la cura e fantasia dei costumi premierà Re Carnevale, con Punti 90, Compagnia Brivido. Grazie. Questa premia premia il presidente dell'associazione delle compagnie Mario Vascotto, con Punti 84, Compagnia Bugli e Pupe. Grazie a tutti. Grazie. Grazie adesso per il quarto Oscar che premierà il sindaco Laura Marzi. Aspetto scenotecnico del carro principale con punti 88 compagnia Brivido. Grazie a tutti. Complimenti. Passiamo adesso a un premio pesante offerto dal confartigianato premio Eliano al carro principale della compagnia Brivido. Grazie. 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 Pesa eh. Grazie agli artigiani. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.